Storven è un marchio del gruppo Fami. Fami SRL è una società di Rosà in provincia di Vicenza che produce e commercializza quattro diversi marchi. Il tradizionale Fami destinato all'arredamento per l'industria, poi abbiamo il marchio Storven dedicato alla produzione e commercializzazione di allestimenti per veicoli commerciali, abbiamo un marchio Mial dedicato ai rivenditori soprattutto dell'industria, più infine abbiamo un nuovo nato che è Fami School dedicato alla produzione e commercializzazione ovviamente del Banco Scuola di nuova generazione. La divisione Storven produce e commercializza prodotti dedicati all'allestimento dei veicoli commerciali, destinato poi a tutti gli artigiani, alle multi-utility o anche alle industrie che effettuano le assistenze ai propri clienti. In questo caso abbiamo portato un veicolo attrezzato per un generico cliente che può essere elettricista, può essere idraulico o può essere qualsiasi artigiano che deve effettuare dei lavori presso il cliente. I nostri articoli sono realizzati con i prodotti più all'avanguardia, con una ricerca continua per migliorare l'articolo finale che possa essere sempre più vicino alle esigenze dei nostri clienti. Grazie a tutti!